Musica Musica Ciao, come ti chiedo? Marta Gaetano Quanti anni hai? 23 41 Dove stai andando? In vacanza con le amiche A mare Giussi, dove stiamo in? A mare Hai con te un navigatore? Certo, non mi sposto mai senza Ah, è chiaro Ma il tuo navigatore ha le mappe aggiornate? Il mio navigatore è sempre aggiornato gratuitamente per tutta la sua vita grazie alle mappe natte Sei dalla community Qualcuno ha trovato una strada che non c'è E ha detto che c'è Anche il mio navigatore ha aggiornato A gratis Hai visto Giussi? Quindi non hai paura di sbagliare strada? Impossibile Grazie alla vista fotorealistica non posso sbagliare Nemmeno agli svincoli Ma che? Ci stanno dei disegnini in coppa che pure moglie Giussi riesce a capire Quindi stiamo dicendo... Dove state andate? All'isola d'Elba Ma ormai ci siamo quasi Siamo già a Livorno Mi sa che abbiamo sbagliato strada Che navigatore hai? Aspetta un attimo, te lo prendo E' questo qua E' Chillo E' questo qua